Il veto del figlio di Thomas Hardy. Capitolo primo. Visti di dietro, i capelli erano castani, una meraviglia e un mistero. Sotto il cappello di castoro nero, sormontato dal ciuffo nero di penne, le lunghe ciocche intrecciate, ritorte e attorcigliate come i vimili di un paniere, offrivano un esempio raro, seppure alquanto barbarico, di arte ingegnosa. Si poteva capire che tali intrecciamenti e attorcigliamenti venissero congegnati per durare intatti un anno o almeno un intero mese, ma che tutto ciò dovesse venire regolarmente demolito al momento di coricarsi sembrava un inconsiderato supio di buon lavoro. E lo aveva fatto tutto da sé, poverina. Non aveva cameriera e questo era quasi il solo talento di cui potesse vantarsi, perciò non vi risparmiava tempo né cure. Era una giovane signora invalida, ma poi non tanto invalida, seduta su di una poltrona a rotelle che era stata spinta in prima linea dentro un recinto verde, accanto ad un palco dove una banda musicale stava svolgendo un concerto in un caldo pomeriggio di giugno. Il concerto aveva luogo in uno di quei parchi minori o giardini privati che si trovano nei soborghi di Londra e costituiva lo sforzo di un'associazione locale per procurarsi dei fondi a favore di un'operapia. Nella grande città vi sono dei mondi racchiusi in altri mondi e benché nessuno fuori da quelle immediate vicinanze avesse mai sentito parlare dell'operapia, della banda musicale o del giardino, il recinto era affollato da un pubblico che prendeva interesse alla cosa e ne sapeva abbastanza. Mentre la musica suonava, molti fra gli ascoltatori notarono la signora invalida, il cui capo di capelli, nella sua posizione elevata, invitava gli sguardi. Non era facile distinguere il suo viso, ma gli ingegnosi intrecciamenti di cui si è già fatto cenno, la bianchezza dell'orecchio e della nuca e il profilo di una guancia né cascante né smorta erano segni che inducevano ad aspettarsi di fronte una vera bellezza. Non di rado simili aspettative vengono deluse dalla conoscenza completa e nel caso presente, quando la signora con un volger del capo finì per mostrarsi, ella non era così bella quanto le persone dietro di lei avevano immaginato ed anche sperato senza sapere perché. Fra l'altro, ma sono disappunti così frequenti? La signora era meno giovane di quanto coloro avevano immaginato, eppure il suo viso era indiscutibilmente attraente e niente affatto patito. I particolari se ne rivelavano ogni qual volta e la si voltava a discorrere con un ragazzo di 12 o 13 anni che le stava accanto e che dalla forma del cappello e della giacca mostrava di appartenere ad un noto collegio. Gli spettatori più vicini potevano sentirlo chiamare la signora mamma. Quando il concerto ebbe termine e il pubblico si disperse, molti preferirono avviarsi all'uscita passando accanto alla signora. Quasi tutti voltarono il capo per guardar bene e da vicino quella donna interessante che rimaneva ferma nella sua poltrona, aspettando che ci fosse largo abbastanza per essere condotta fuori senza difficoltà, come se si aspettasse di essere guardata e non le rincrescesse di soddisfare la loro curiosità, e la incontrò agli occhi di molti suoi osservatori levando i propri e mostrando così due pupille dolci, scure e affettuose, dallo sguardo un poco dolente. Fu condotta fuori dal giardino e passò lungo i marciapiede finché uscì di vista con lo scollaretto che le camminava a lato. Alle domande di alcune persone che l'osservavano allontanarsi fu disposto che era la seconda moglie del ministro di una vicina parrocchia e che era zoppa. Per comune opinione si riteneva che vi fosse una storia nel passato di quella donna, una storia innocente ma pur sempre una qualche storia. Nel discorrere con lei lungo la via del ritorno, il ragazzo che le camminava a fianco espresse la speranza che suo padre non avesse sentito la loro mancanza. Ha stato così comodo queste poche ore che certo non ha potuto sentire la nostra mancanza, rispose lei. È stato, mammina, non ha stato, esclamò lo scolaretto con un'esigenza impaziente fino ad essere aspra. Dovresti averlo imparato a quest'ora. Sua madre accettò in fretta la correzione e non si risentì per averla ricevuta da lui, né gli rese la pariglia, come avrebbe potuto fare benissimo, ingiungendogli di ripulirsi la bocca dalle briciole dovute ai celati tentativi di mangiare un pezzo di focaccia senza tirarlo fuori dalla tasca dove stava nascosto. Dopodiché la donna graziosa e il ragazzo proseguirono in silenzio. Quella questione di grammatica aveva rapporto alla sua storia ed ella si sprofondò in una meditazione alquanto malinconica a giudicare dalle apparenze. Si poteva assumere che stesse chiedendosi se era stata saggezza la sua nel dirigere la propria vita così come l'aveva diretta per ottenere un tal risultato. In un angoletto sperduto del North Essex, distante 40 miglia da Londra, vicino alla fiorente cittadina di Aldbrigham, c'era un grazioso villaggio con la sua chiesa e la sua casa parrocchiale, che lei conosceva bene ma che suo figlio non aveva veduto mai. Era il suo villaggio natale, Gaymed, ed il primo avvenimento che si riferisse alla sua situazione attuale era accaduto in quel luogo quando lei non aveva che 19 anni. Come lo ricordava bene, quel primo atto nella sua piccola tragicommedia, la morte della prima moglie del suo reverendo marito, era avvenuto in una sera di primavera e lei, che adesso e da molti anni occupava il posto di quella prima moglie, era allora cameriera nella casa del parroco. Quando tutto ciò che si poteva fare era stato fatto e la morte annunziata, lei era uscita nell'oscurità per recarsi dai suoi genitori, che vivevano nello stesso villaggio, a comunicar loro la triste notizia. Mentre apriva il cancelletto bianco e guardava verso gli alberi che si levavano ad occidente, parando la pallida luce del cielo serale, scorse la figura di un uomo in piedi vicino alla siepe e non ne fu molto sorpresa, benché esclamasse maliziosamente tanto per forma, «Oh Sam, mi avete proprio fatto paura?». Era un giovane giardiniere di sua conoscenza. Lei gli raccontò i particolari dell'avvenimento recente e rimasero in silenzio i due giovani, in quella disposizione di spirito elevata, pervasa di calma filosofica, che viene indotta quando una tragedia colpisce poco lontano, senza tuttavia colpire i filosofi stessi. Ma questa aveva il suo peso nei loro reciproci rapporti. «E ora continuerete lo stesso a stare dal parroco?», domandò lui. Lei non ci aveva quasi pensato. «Oh, sì, credo di sì», disse. «Sarà tutto come al solito, immagino». Il giovane le camminava accanto verso la casa di sua madre e presto col braccio le cinse furtivamente la vita. Lei glielo scostò con dolcezza, ma lui lo riposò lì di nuovo e la ragazza finì per lasciarlo fare. «Vedete, cara Sophie, non siete certa di rimanere. Potreste desiderare una casa vostra ed io sarò pronto a offrirvene una un giorno, per quanto non sia pronto proprio adesso». «Dio mio, Sam, come potete andare così in fretta? Non vi ho nemmeno mai detto che mi piacete e fate tutto di testa vostra a venirmi dietro». «Sì, ma è una sciocchezza dire che non devo tentare anch'io la mia fortuna con voi come gli altri». Si chinò per darle un bacio di commiato, poiché erano arrivati all'uscio della madre di Sophie. «No, Sam, non lo farete!» esclamò lei mettendogli la mano sulla bocca. «Dovreste essere più serio in una sera come questa». E gli disse addio senza permettergli di baciarla o di entrare in casa. Il vicario rimasto vedovo proprio allora era a quel tempo un uomo sulla quarantina, di buona famiglia e senza figli. Aveva condotto una vita ritirata in questa sua parrocchia anche per il fatto che non vi erano possidenti stabiliti nel luogo e la sua perdita accentuava ora l'abitudine di sottrarsi all'osservazione di estranei. Fu visto in giro ancora meno che per il passato e si tenne ancora meno in pari col ritmo e col frastuono dei movimenti chiamati progresso nel mondo esterno. Per molti mesi dopo la morte di sua moglie, l'andamento della sua casa rimase immutato. La cuoca, la domestica, la cameriera e l'uomo di fatica compivano i propri doveri o li lasciavano incompiuti secondo quello che suggeriva la natura. Il vicario non se ne accorgeva. Allora gli fu fatto notare che apparentemente la servitù non aveva molto da fare nella sua casa dove non c'era che lui. Egli fu colpito dalla giustezza di questa osservazione e decise di ridurre il suo personale domestico, ma fu prevenuto da Sophie, la cameriera, che una sera disse di volersi licenziare. «E perché?» chiese il parroco. «Sam Hobson mi ha chiesto ai mogli e signore». «Ebbene, desiderate sposarlo?» «Non molto, ma avrei una casa mia e abbiamo sentito dire che uno di noi dovrà andarsene». Qualche giorno dopo Sophie disse «Non desidero andarmene per ora, signore, se non lo volete voi. Sam e Dio ci siamo bisticciati». Il parroco alzò gli occhi a guardarla. Non l'aveva quasi mai osservata prima, benché avesse più volte avvertito la sua dolce presenza nella camera. «Che creatura flessuosa, tenera, graziosa come un gattino?» Era la sola della servitù con la quale egli avesse relazioni continue ed immediate. Che cosa avrebbe fatto lui se Sophie se ne fosse andata? Sophie non se ne andò, ma fu uno degli altri domestici ad andarsene e le cose ripresero il loro corso tranquillo. Quando il signor Twycott, il vicario, cadde malato, Sophie saliva a portargli i pasti ed un giorno era appena uscita dalla camera quando egli sentì un rumore per le scale. Sophie era scivolata con il vassoio e si era storto il piede in modo tale da non potersi reggere dritta. Fu chiamato il chirurgo del villaggio. Il vicario migliorò, ma Sophie rimase per un pezzo inabilitata e le fu detto che non doveva mai più camminare molto, né impegnarsi in alcun lavoro che richiedessero stare a lungo in piedi. Appena si fu relativamente rimessa, Sophie parlò col parroco da solo. Poiché le veniva proibito di camminare e di sbrigare faccende, né in verità avrebbe potuto farlo, era suo dovere licenziarsi. Poteva benissimo dedicarsi a un lavoro sedentario ed una sua zia faceva la cucitrice. Il parroco si era profondamente commosso per quanto lei aveva sofferto a causa sua ed esclamò, no Sophie, soppa o no, io non posso lasciarvi andare, non dovete lasciarmi mai più. Le si fece vicino e benché Sophie non potesse mai dire con precisione come avvenne, avvertire labbra di lui sulla sua guancia. Egli allora la chiese in matrimonio. Sophie non sentiva precisamente di amarlo, ma lo considerava con un rispetto che toccava quasi la venerazione. Anche se avesse desiderato staccarsi da lui, avrebbe a malapena osato rifiutare un personaggio tanto reverendo ed augusto ai suoi occhi e consentì immediatamente a divenire sua moglie. Così avvenne che una bella mattina, quando le porte della chiesa stavano spalancate per lasciar passare l'aria e gli uccelli canori entravano svolazzando per posarsi sulle travi del tetto, fu celebrato all'altare un matrimonio quasi all'insaputa di tutti. Il parroco e un curato dei dintorni erano entrati da una porta e Sophie da un'altra, seguiti dai due testimoni indispensabili. Dopodiché, trascorso poco tempo, vennero fuori i novelli sposi. Il signor Twycott sapeva perfettamente di aver commesso un suicidio sociale con questo passo, malgrado l'illibatezza di Sophie, ed aveva quindi preso le sue misure in proposito. Uno scambio di benefici ecclesiastici era stato predisposto con un suo conoscente, ministro di una chiesa nei quartieri meridionali di Londra, e la coppia si trasferì là il più presto possibile, abbandonando la loro graziosa casa di campagna con il terreno parrocchiale, gli alberi e i cespugli, per una casa angusta e polverosa in una via lunga e dritta, ed il loro melodioso scampanio, per il più detestabile e monodico clangore che abbia mai torturato orecchie mortali. Era lei la causa di tutto questo. Ad ogni modo, così erano lontani da chiunque avesse conosciuto la sua condizione precedente, ed anche meno esposti ad occhi estranei di quanto avrebbero dovuto tollerare in una qualsivoglia parrocchia di campagna. Sophie, la donna, era la compagna più gradevole che un uomo potesse desiderare, benché Sophie, la signora, non fosse priva di manchevolezze, e la mostrava una naturale tendenza alle piccole eleganze casalinghe finché queste si riferivano alle cose e al comportamento, ma in ciò che si chiama cultura possedeva minore intuito. Erano trascorsi ora più di 14 anni dal suo matrimonio e suo marito si era dato molta pena per istruirla, ma lei non aveva ancora un'idea chiara dell'uso dei verbi, il che non le procurava il rispetto delle sue poche conoscenze. Il suo maggior cruccio a questo riguardo era che suo figlio, per la cui educazione non si era risparmiata e non si sarebbe risparmiata nessuna spesa, fosse oramai in età da notare queste manchevolezze della madre, e non soltanto da vederle, ma da irritarsene. Sophie continuò così a vivere in città e a spendere delle ore per intrecciare i suoi bei capelli, finché le sue guance, un tempo di mela rosa, impallidirono nel più tenue incarnato. Il suo piede non aveva mai ripreso la forza primitiva dopo l'incidente, ed ella era quasi sempre costretta a star ferma. Suo marito aveva finito col trovarsi bene a Londra, per la libertà e la riservatezza domestica che vi godeva, ma egli aveva venti anni più della sua Sophie e negli ultimi tempi era stato colpito da una grave malattia. Nel giorno in questione, ad ogni modo, le sue condizioni erano parse abbastanza buone da giustificare il fatto che lei accompagnasse suo figlio Randolph al concerto. Capitolo secondo. Quando possiamo intravederla di nuovo, Sophie ci appare nel malinconico abito vedovile. Il signor Twycott non si era mai ristabilito, ed ora riposava in un cimitero della grande città, pieno seppo a mezzogiorno, dove, se tutti i morti che vi erano contenuti si fossero levati in piedi vivi, nessuno lo avrebbe riconosciuto neppure di nome. Il figlio lo aveva rispettosamente accompagnato alla tomba, ed ora era ritornato a scuola. Attraverso tutti questi cambiamenti, Sophie era stata trattata come la bambina che era per l'indole, se non per gli anni. Non le fu lasciato nessun controllo su cosa alcuna appartenente a suo marito all'infuori di una modesta rendita personale. Nel timore che si potesse abusare dell'inesperienza di lei, egli aveva garantito tutto quanto poteva affidandolo ad amministratori. Il compimento degli studi del ragazzo al collegio, che dovevano completarsi a suo tempo con Oxford e con l'ordinazione, era stato interamente previsto e predisposto, e lei non aveva in realtà altra occupazione al mondo se non bere e mangiare, fare dell'indolenza una professione e proseguire ad intrecciare e attorcigliare i capelli castani, limitandosi a tenere una casa aperta per il figlio ogni volta che questo veniva a trovarla durante le vacanze. Prevedendo di poter morire molti anni prima di Sophie, suo marito aveva in vita acquistato per lei, nella stessa strada lunga e dritta su cui davano la chiesa e la casa parrocchiale, una villetta semi-indipendente, destinata ad appartenerle fin tanto che le fosse piaciuto abitarvi. E qui viveva ora Sophie, guardando fuori la striscia di giardino sul davanti e, al di là della cancellata, il traffico che scorreva ininterrotto, o sporgendosi dal davanzare del primo piano a guardare su e giù fin dove giungeva la vista alla prospettiva di alberi fuliginosi, di aria annebbiata e di facciate monotone, lungo cui eccheggiavano i rumori abituali ad una grande arteria suburbana. In qualche modo suo figlio, con le sue raffinate cognizioni scolastiche, le sue grammatiche e le sue avversioni, andava perdendo quelle vaste affinità infantili che si estendono fino agli astri stessi con le quali era nato come tutti i bambini e che sua madre, creatura distinti e la medesima, aveva amato in lui. E ne andava riducendo la sfera ad una popolazione di poche migliaia di persone ricche e titolate, semplice doratura, di una gran massa di altri individui che non lo interessavano affatto. Si allontanava sempre più da sua madre. Poiché il milio in cui questa viveva era un quartiere di piccoli commercianti e di modesti impiegati, e la sua compagnia si limitava quasi unicamente alle sue due domestiche, non fa meraviglia se dopo la morte del marito Sophie fece presto a perdere i piccoli gusti artificiosi presi da lui e a diventare, agli occhi di suo figlio, una madre che con la sua origine e gli errori del suo comportamento costituiva una penosa disgrazia, tale da far arrossire un gentiluomo. Ancora il ragazzo era troppo lontano dall'essere abbastanza uomo, seppure lo sarebbe diventato mai, per giudicare questi peccatucci della madre alla stregua del loro vero infinitesimale valore di fronte al tenero affetto che scaturiva e rimaneva chiuso nel suo cuore, aspettando di venire accettato più pienamente da lui o da qualche altra persona e magari cosa. Se il figlio le fosse vissuto accanto avrebbe avuto tutto quell'affetto per sé, ma egli sembrava richiederne ben poco nelle circostanze attuali e il sentimento rimaneva serbato. La vita di Sophie divenne di una monotonia insopportabile, non poteva passeggiare e non prendeva interesse alle gite in carrozza, né in verità ad alcun genere di viaggio. Quasi due anni trascorsero senza avvenimenti ed ella guardava sempre quella strada suburbana, pensando al villaggio in cui era nata e dove sarebbe tornata, o, come volentieri, perfino a lavorare nei campi. Poiché non faceva moto, Sophie spesso non poteva dormire e si levava a mezzo della notte o di buon mattino a guardare fuori dalla finestra la larga strada allora deserta, dove i lampioni stavano ritti come sentinelle in attesa di qualche processione che dovesse passare di là. Qualcosa di non molto dissimile da una processione si svolgeva realmente ogni mattina presto verso luna, quando i cari agricoli passavano carichi di ortaggi per il mercato di Covent Garden. Li vedeva avanzar lenti in quest'ora silenziosa ed oscura, un carro dopo l'altro, portando torri verdeggianti di cavoli che accennavano sul punto di cadere, eppure non cadevano mai, muraglie di cesti contenenti masse di fave e piselli, piramidi di rape bianche come neve, fantastici baldacchini ondeggianti di ortaggi diversi. Li vedeva avanzar lenti dietro vecchi cavalli del servizio notturno, che sembravano chiedersi sempre pazientemente, mentre tossivano rauchi perché mai loro fossero condannati a lavorare in quell'ora di quiete quando tutte le altre creature senzienti godevano il privilegio del riposo. Avvolta in un mantello, era un conforto osservarli e simpatizzare con loro quando la tristezza e il nervosismo impedivano il sonno, e vedere come le verdure fresche spiccavano vivide nel passare davanti ai lampioni, e come gli animali fumavano e lustravano per le miglia percorse. Avevano un interesse, quasi un fascino per Sofi, questa gente e questi carri semi-rurali che si muovevano in un'atmosfera cittadina, conducendo una vita del tutto distinta da quella di chi si affaticava di giorno sulla stessa strada. Una mattina, un uomo che accompagnava un carro carico di patate, si mise a fissare con una certa insistenza le facciate delle case, e Sofi si disse, con una curiosa emozione, che quella figura non le era ignota. Cercò di rivederlo. Il suo era un veicolo antiquato, giallo nella parte anteriore, facile perciò da riconoscere, e tre notti dopo Sofi lo rivide per la seconda volta. L'uomo che l'accompagnava era, come lei aveva immaginato, Sam Hobson, l'antico giardinieri di Gay Med, quello che un tempo l'aveva chiesta in esposa. Sofi aveva pensato a Sam di tanto in tanto, domandandosi se la vita con lui in una casetta rustica non sarebbe stata un destino più felice della vita che aveva accettato. Non pensava a lui con passione, ma la sua esistenza, oramai così desolata, conferiva interesse alla risurrezione di lui, un tenero interesse che non è possibile esagerare. Ella tornò a coricarsi e cominciò a riflettere. Quando facevano ritorno questi ortolani, che arrivavano in città così regolarmente all'una o alle due del mattino. Si ricordò vagamente di aver veduto ripassare qualche tempo prima del mezzogiorno i loro carri vuoti, che quasi non si notavano nel traffico consueto delle ore diurne. Si era soltanto in aprile, ma quella mattina dopo colazione, Sofi volle la finestra aperta e sedette a guardar fuori, con la luce pallida del sole che la inondava tutta. Faceva le viste di cucire, ma non lasciava mai la strada con gli occhi. Fra le dieci e le undici, il carro atteso, ora scarico, riapparve sulla via del ritorno, ma Sam non si guardava in giro in quel momento e seguitava a condurre immerso nei suoi pensieri. «Sam!» gridò lei. Quello si volse bruscamente, illuminandosi tutto in viso. Chiamato a sé un ragazzetto che gli tenesse le redini, scese e venne a mettersi sotto la sua finestra. «Non posso scendere giù facilmente, Sam, se no verrei!» disse Sofi. «Sapevate che abito qui?» «Ebbene, signora Twycott, sapevo che abitavate da queste parti. Ho cercato spesso di ritrovarvi.» Sam spiegò in poche parole la sua apparizione sulla scena. Da lungo tempo aveva lasciato di fare il giardiniere, nel paesetto presso Aldbricham. Ora curava le terre di un orticultore nella regione meridionale di Londra, ed una delle sue incombenze consisteva nel recarsi al mercato di Covent Garden, con i carri carichi di derrate, due o tre volte la settimana. In risposta alle domande curiose di Sofi, ammise di essere venuto in quel particolare quartiere perché aveva letto nel giornale di Aldbricham, uno o due anni prima, l'annunzio della morte dell'antico vicario di Gaymed, avvenuta nei quartieri meridionali di Londra, sentendo rivivere così, per il luogo abitato da lei, un interesse che non era riuscito a spegnere e che lo aveva condotto a giranzolare in quei paraggi finché non aveva trovato il suo lavoro attuale. Parlarono del loro paesetto natio, nel vecchio e caro North Wessex, dei posti in cui avevano giocato insieme da bambini. Sofi si sforzò di tenere a mente che era diventata ora una persona di riguardo e che non doveva dar troppa confidenza a Sam, ma non poté sostenere la parte molto a lungo e le lacrime che le velavano gli occhi si avvertivano nella sua voce. «Ho paura che non siate felice, signora Twycott», disse lui. «Oh, certo no, ho perso mio marito da due anni soltanto». «Ah, volevo dire in un altro senso, vi piacerebbe ritornare al paese?» «Questo è il mio paese, finché campo, la casa mi appartiene, ma capisco». Allora si sfogò. «Sì, Sam, non desidero altro che il mio paese, il nostro paese. Mi piacerebbe tanto ritrovarmi lì e non lasciarlo mai e morirci». Ma poi si riprese. «È un sentimento che passa. Ho un figliolo, sapete, un caro ragazzo. Ora è a scuola». «In qualche posto qui vicino, forse, ne vedo una quantità di ragazzi per questa strada». «Oh no, non in una di queste stamberghe. È in un collegio privato, uno dei più aristocratici dell'Inghilterra». «Acciderba, è giusto. Mi stavo dimenticando che voi siete da tanti anni una grandama». «No, non sono una grandama», disse lei tristemente. «Non lo sarò mai. Ma mio figlio, lui, è un vero signore e questo rende la cosa così difficile per me». Capitolo terzo. La conoscenza, ripresa in modo così curioso, progredì rapidamente. Sophie si affacciava spesso per scambiare qualche parola con lui, di notte o di giorno. Il suo dolore era quello di non poter accompagnare a piedi, per un breve tratto di strada, il solo vecchio amico che avesse, e parlare insieme più liberamente di quel che potevano fare mentre lui si fermava davanti casa. Una notte, al principio di giugno, mentre Sophie stava di nuovo alle vedette dopo aver abbandonato la finestra per qualche giorno, Sam entrò dal cancello e disse piano «Su via, che un poco d'aria non vi farebbe bene? Ho caricato solo a metà stamattina. Perché non montate su con me fino a Covent Garden? C'è un posticino comodo sui cavoli dove ho steso un sacco. Potete tornarvene in carrozzo prima che ci sia qualcuno di levato?» Sophie cominciò con rifiutare, ma poi, tremando per l'emozione, terminò in fretta di vestirsi, si ravvolse in un mantello e in un velo, e si lasciò scivolare giù di sghembo per le scale reggendosi alla ringhiera, secondo un sistema a cui poteva ricorrere in caso di necessità. Quando ebbe aperto l'uscio, Sam l'aspettava sullo scalino e la trasportò di peso nelle sue braccia forti attraverso il cortiletto fino al suo carro. Non si vedeva né si sentiva un'anima nella lunghezza sconfinata della larga strada dritta e piana, con i suoi lampioni eternamente in attesa che convergevano a punti fissi in ogni direzione. A quell'ora l'aria era fresca come aria di campagna e le stelle brillavano, salvo che fra Oriente e Settentrione dove c'era una luce biancastra, l'alba. Sam sistemò con cura Sofie a sedere e riprese la via. Discorrevano come avevano usato un tempo, Sam riprendendosi ogni tanto, quando credeva di entrare troppo in confidenza. Più di una volta, lei disse dubbiosa che si domandava se avesse fatto bene a permettersi questo ghiribizzo. «Ma mi sento tanto sola a casa mia?» aggiunse. «E questo mi fa tanto piacere». «Dovete ritornarci, cara signora Twycott. Non c'è un momento migliore nella giornata per prendere aria a questo modo». Si faceva sempre più chiaro. I passerotti cominciavano ad affaccendarsi per le vie e la città si addensava intorno a loro. Quando furono al fiume era giorno fatto e dal ponte contemplarono il pieno splendore del sole mattutino verso San Paolo, col fiume che scintillava all'incontro, senza un'imbarcazione che si muovesse. Vicino Covent Garden, Sam la mise in una carrozza e si separarono, guardandosi in faccia come i vecchi amici che erano. Ella arrivò a casa senza incidenti, raggiunse zoppicando l'uscio ed entrò con la sua chiave senza essere vista. L'aria e la presenza di Sam l'avevano rianimata. Aveva le guance soffuse di rosa. Era quasi bella. Aveva qualche cosa per cui vivere oltre suo figlio. Donna dagli istinti puri, sapeva non esservi stato nulla di veramente riprovevole nella sua uscita, ma credeva che da un punto di vista convenzionale ci fosse davvero molto da rimproverare. Presto, tuttavia, Sofice dette alla tentazione di ritornare con Sam. Questa volta i loro discorsi furono dichiaratamente teneri e Sam disse che non l'avrebbe dimenticata mai per quanto lei lo avesse trattato male un tempo. Dopo molte esitazioni, le parlò di un progetto che era in suo potere realizzare e al quale gli sarebbe piaciuto mettere mano, poiché il lavoro in città non gli garbava. Consisteva nel metter su una bottega di frutta e verdura ad Albrichem, il capoluogo della loro contea natale. Sapeva di un'occasione, una bottega tenuta da persone anziane che volevano ritirarsi dal commercio. «E allora perché non lo fate, Sam?» domandò lei sentendo una leggera stretta al cuore. «Perché non sono sicuro se... voi verreste con me?» «So bene di no. E come potreste, una signora come voi, che fa la signora da tanto tempo, diventare la moglie di un uomo come me?» «Credo proprio che non potrei», convenne Sofice, spaventata anch'essa dall'idea. «Se poteste», disse lui con ardore, «non avreste che da stare seduta nel salottino del retro bottega e dare un'occhiata attraverso i vetri quando a me capitasse di andare fuori, soltanto così per tenere d'occhio la roba. Non vi darebbe fastidio per la gamba. Eviterrei da signora per quanto hai in me, Sophie cara, se posso pensarci», la supplicò. «Sam, sarò sincera», disse Sophie posando la mano su quella di lui. «Se fosse per me sola, lo farei, e con gioia, per quanto verrei a perdere tutto quanto possiedo rimaritandomi. Non ci penso neppure sia più indipendenti. Siete proprio buono, caro, caro Sam. Ma c'è un'altra cosa. Ho un figlio. A volte, quando sono infelice, mi viene quasi fatto di pensare che non è proprio un figlio mio, ma uno che tengo in custodia per il mio defunto marito. Sembra appartenere così poco a me personalmente, così in tutto a suo padre morto. È tanto istruito, ed io lo sono così poco che non mi sento abbastanza elevata per essere sua madre. Ebbene, bisognerebbe dirglielo». «Sì, senza dubbio», Sam intendeva il suo pensiero e il suo timore. «Tuttavia siete libera di fare come vi piace, Sophie», signora Twycott, aggiunse. «Il figlio è lui, non siete voi». «Ah, non sapete. Sam, se potessi vi sposerei un giorno, ma dovete aspettare un po' e lasciarmi riflettere». Per Sam era abbastanza, ed egli era allegro quando si separarono. Non così lei. Dirlo a Randolph sembrava impossibile. Poteva aspettare finché il ragazzo fosse andato ad Oxford, quando quello che faceva lei avrebbe contato poco nella sua vita. Ma suo figlio avrebbe mai tollerato un'idea simile. E se non l'avesse tollerata, poteva lei sfidarlo? Ancora non gliene aveva fatto parola quando venne il tempo della partita annuale di cricket fra i collegi, per quanto Sam fosse già ritornato ad Elbricham. La signora Twycott si sentiva meglio del solito. Andò ad assistere alla partita insieme a Randolph e fu in grado di lasciare la poltrona e camminare un po' intorno. Le venne l'idea brillante che avrebbe potuto entrare come a caso nel discorso mentre circolavano fra gli spettatori, nel momento in cui il ragazzo, entusiasmato dal gioco, avrebbe considerato gli affari domestici come piume nella bilancia, contrapposti alla vittoria del giorno. Passeggiarono sotto il pallido sole di luglio, quei due, così distanti eppure così vicini, e Sofi vide un gran numero di ragazzi simili al suo, con i loro colletti bianchi e i capellucci, e tutto intorno le file di imponenti carrozze sotto cui stava alla rinfusa il debrì di colazioni sontuose, croste di pasticci, bottiglie di spumante, bicchieri, piatti, tovaglioli e l'argenteria di famiglia, mentre nelle carrozze sedeva madri e padri orgogliosi, ma nessuna madre misera come lei. Se Randolph non fosse appartenuto a questa gente, se non ne avesse fatto il centro di tutti i suoi interessi, se non si fosse curato esclusivamente della classe che era la loro, come la vita sarebbe stata felice? Un clamoroso e viva per qualche piccola prudezza dei giocatori proruppe dalla folla dei parenti, e Randolph fece un salto frenetico per vedere quello che era successo. Sophie richiamò alla mente la frase che aveva già preparata, ma non le riuscì di pronunciarla. Il momento, forse, non era opportuno. Il contrasto fra la sua storia e quella brillante mostra di eleganze cui Randolph si considerava ormai legato sarebbe riuscito fatale, ed ella aspettò un momento migliore. Fu una sera in cui si trovavano soli nella loro tranquilla abitazione suburbana, in mezzo ad un mondo non brillante ma grigio, che Sophie si decise a rompere il silenzio, moderando l'annunzio di un secondo matrimonio probabile, con l'osservazione che questo non avrebbe avuto luogo se non fra molto tempo, quando egli avrebbe svolto la sua vita del tutto indipendente da lei. Il ragazzo considerò l'idea ragionevole e le chiese se la sua scelta non fosse già fatta. Sophie esitò, il ragazzo parve in sospettirsi. Sperava che il suo padrino sarebbe stato un signore, disse. Non quello che tu chiami un signore, rispose lei timidamente. Sarebbe di condizione molto simile a quella che era la mia prima di conoscere tuo padre, e a poco a poco lo informò di tutto. Il giovinetto rimase per un momento con la faccia immobile, poi si fece rosso, si rimanò sulla tavola e scoppiò in singhiozzi violenti. Sua madre gli si fece vicino, gli baciò il viso dove poteva giungerlo, gli carezzò le spalle come se lui fosse ancora il piccino di una volta, piangendo nel mentre ella stessa. Appena Randolph si fu un po' calmato, si ritirò in fretta e furia nella sua camera e serrò l'uscio. Attraverso il buco della serratura, dietro cui aspettava e ascoltava, Sophie tentò di intavolare delle trattative. Passò molto tempo prima che il ragazzo fosse indotto a rispondere, e allora fu soltanto per dirle severamente dall'interno. Mi vergogno di te, uno sciagurato zoticone, un villanzone, un bifolco, questo matrimonio mi umilirà agli occhi di tutta la buona società inglese. Non dire così, avrò torto io, mi sforzerò di vincermi, gridò Sophie angosciata. Prima che Randolph la lasciasse quell'estate, le giunse una lettera di Sam, in cui questo la informava di aver avuto più fortuna del previsto nell'ottenere la bottega. Ne aveva già preso possesso, era la più grande della città, ci si vendevano frutta ed ortaggi, ed egli credeva che avrebbe fatto una casa degna un giorno perfino di lei. Intanto non poteva permettersi di fare una corsa in città per venire a vederla? Sophie si incontrò con lui di nascosto e gli disse che doveva aspettare ancora la sua risposta definitiva. L'autunno scorse via lento e quando Randolph tornò a casa per le vacanze di Natale, lei riprese il discorso, ma il signorino fu inesorabile. L'argomento venne lasciato da parte per mesi, poi ridiscusso, abbandonato per l'avversione del ragazzo, ritentato di nuovo, e a questo modo quella mite creatura ragionò e pregò finché non furono trascorsi quattro o cinque lunghi anni. Quindi il fedele Sam rinnovò la sua domanda con un fare più perentorio. Il figlio di Sophie, ora studente universitario, era venuto a casa da Oxford in occasione della Pasqua quando lei ritornò all'attacco. Subito dopo l'ordinazione, cercava di convincerlo Sophie, egli avrebbe avuto una casa propria dove lei con i suoi errori di grammatica e la sua ignoranza gli sarebbe stata di peso. Meglio valeva metterla da parte per quanto si poteva. Il figlio mostrò ora uno sdegno più virile, ma non volle acconsentire. Da parte sua, Sophie insisteva con maggior forza e Randolph si chiese se poteva fidarsi di lei durante la sua assenza. Ma sdegnandosi e disprezzando la scelta di lei, conservò intero il suo ascendente e, infine, condotta davanti a un altarino con la croce che aveva disposto in camera sua per le orazioni personali, lei ingiunse di inginocchiarsi e di che non avrebbe sposato Sam Hobson senza il suo consenso. Devo questo a mio padre, disse. La povera donna giurò, pensando che gli sarebbe diventato più umano subito dopo l'ordinazione e nella piena attività del suo ministero, ma non fu così. La sua educazione aveva ormai sopraffatto sufficientemente il suo senso di umanità per renderlo irremovibile, per quanto sua madre avrebbe ben potuto condurre una vita idilliaca con il suo fedele fruttivendolo senza che nessuno al mondo ne dovesse soffrire. Col passare del tempo, l'infermità di Sofi si fece cronica e di rado o mai ella lasciava la casa nella lunga arteria dei quartieri meridionali dove sembrava struggersi lentamente. «Perché non posso dire a Sam che lo sposerò? Perché non glielo posso dire?» solleva mormorare a se stessa in tono lamentoso quando non c'era nessuno. Quattro anni dopo questi fatti, un uomo di mezza età se ne stava ritto davanti alla porta della principale bottega di fruttivendolo ad Elbricham. Era il proprietario, ma oggi, invece del logoro vestito da lavoro, portava un corretto abito nero e l'imposto della sua finestra era in parte accostata. Dalla stazione si vedeva avanzare un corteo funebre. Il corteo passò davanti alla sua porta e uscì dalla città dirigendosi al villaggio di Gamed. L'uomo, che aveva gli occhi pieni di lacrime, teneva il cappello in mano al passaggio delle carrozze, mentre dalla vettura che seguiva immediatamente il carro, un giovane ecclesiastico rasato con cura, in panciotto chiuso fino al collo, guardava scuro in viso come un temporale verso il bottegaio che se ne stava lì ritto. Grazie a tutti.